Buonasera amici di Ella's Life, per me è un grandissimo privilegio di salutarvi e dopo dieci anni insieme a rivivere le emozioni che abbiamo conquistato a Busto Alsizio, vi porto sempre nel mio cuore, vi seguo, purtroppo quest'anno è stato un anno molto difficile, molto particolare, ma sono sicuro che l'anno prossimo con nuove forze e col coraggio, come avete sempre fatto, troverete la strada giusta per raggiungere di nuovo la massima serie per che siete speciali e siete una società che merita di stare ad altissimi livelli, approfitto di salutarvi e di augurarvi una stagione nuova ricca di emozioni e un abbraccio forte e vi porto sempre nel mio cuore. A presto! A presto! A presto! A presto!